Salve popolo, noi siamo le double si e questo è il nostro canale Bene ragazzi, oggi dopo mai siamo qui a casa mia a registrare questo video Esatto, come vedete abbiamo comprato cose di marca e roba don di marca e faremo un video dove dobbiamo riuscire ad indovinare qual è il prodotto di marca e qual è il prodotto sotto marca Prima di iniziare il video vi consigliamo di mettere un like e di iscrivervi perché abbiamo letto le camere nelle vostre case quindi vi guardiamo e sappiamo chi di voi si iscrive Esatto, quindi fatelo e direi di iniziare con il video Il primo candidato sono le gocciole, fasulle Nel frattempo c'è la mia gatta Misha che ci guarda se volete seguirla a una pagina su Instagram Misha polpeccia Misha trattino basso polpeccia Io comunque lo riconoscerò subito perché mangio sempre gocciole Ma le devo dare insieme? No, una a una Tieni Vediamo Questa è già messa a fasulla Proprio dal tatto Fasulla Proprio Ci metto la mano, non c'è bisogno di assaggio l'altra Vero? È fasulla? Assaggia È fasullissima Vai Ce la posso fare a dire ragazzi Abbiamo appena mangiato tipo calzoni, pizza Pizze e patatine Vero Bravo Ovvio Ha indovinato Un punto a me Grazie Le bevande dato che a me fanno schifo le cose ingassate Bevo solo della pesca e acqua Se le beve Claudia Questa mi serve di originale Vediamo l'altra Boh Ma questa non serve di niente Questa è la cola Brava Claudia Questa è tipo Madonna Fa schifo C'è una quantità di zucchero in questa cola Passiamo con i flakes Io questo non ho idea di come poterle indovinare Perché non le mangio Quindi Flakes e i cornflakes E i cornflakes Ma questo non lo indovinerò mai Questo mi sa di fasullo comunque Sì Ho il sospetto No forse questo è il fasullo Ne vuoi un altro? Sì Non mi piacciono Vabbè ma non è quello che ci serve In questa giornata Di cibo stupezze Allora Tu li assaggiamo ragazzi Vediamo Questo fasullo sicuro Questo è quello Buono E la tua risposta definitiva? Sbogliato No I cookies ragazzi Se volete fare questo tipo di video Non mangiate No non mangiate ragazzi Io ho mangiato una pizza E il melone Io ho un canzone con gli spinaci Quindi è tutto dire Ho paura di Prego Allora E come mangiamo questo? E dal tatto Io direi che questo è vero Questo fa subito Dal tatto Allora vediamo Questo è molto buono Anche questo è molto buono Dai io ho un altro assaggio Per capirlo meglio Questo è milta? Sì Ma Ma anche l'altro è buono Passiamo Gli M&M's Peanut choccoz Peanut choccoz No allora Peanut choccoz e M&M's Vai Vediamo Io sono Cosa sono questa roba? Un bandito Le mani Gli M&M's Gli M&M's Gli M&M's Gli M&M's Prego Vado Non è una farfa Questo mi so che è M&M's Questo mi so che è M&M's Fa solo Sei sicura? No 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 È buono Un'altra? No è buono Un'altra? Questo è quello che ero E' la tua risposta No Dai prendi un'altra Vomito Stavolta è un uovo Prima la pava Questo è quello che ero basta Hai deciso? Hai sbagliato No no Però prima cosa avevo detto? L'avevo detto al contrario Sempre sbagliato? No Avevo indovinato Mi hai fatto confondere Andiamo con la Fanta L'aranciata Cioè l'aranciata L'ha proprio assaggiata Quando avevo 5 anni 10 anni Uno Vabbè tu non sai dove Lo so Non si sa mai Vado con questa Stava schifo Vediamo questa Stava proprio schifo di quella Questa è quella Questa è quella Vediamo Mamma mia Sbocco È giusto vero? No Ho sbagliato Quale che hai detto Che era vero Questa adesso Sì è vero Quell'altra L'aranciata è un rinco Quella fa schifo Seppiamo Ma si è sciolto Vero? Sbocco Sbocco Allora Uno e due Prego donna Si accomodi Sto vomitando Donna Qua di prima Il Twiz Non lo so Con lo pavano C'è il caramel Non c'è niente Ma qua c'era Guarda Smooth caramel bars Però è buono Vediamo Un'esperta di patate Che schifo Che faccio Non fate come me Fanno male Mangiate verdure Verdure Frutta Apri le mani No Io sbocco Ragazzi Così enorme Non pare Dividimela a metà Tu mi hai fatto Ingozzare Suizia Me la divido io Va Buona Ma non è Amica chips Sicuro Aspetta Questa è Amica chips Secondo me Amica chips E' la seconda Brava Mi piacciono troppo Le riconosco Sono buonissime Sono diverse Dalle altre patate Bene ragazzi Il video è finito Il video è finito Ci siamo divertiti Molte a mangiare Ora andremo a vomitare Lo state like Iscrivetevi Noi ci vediamo Al prossimo video Seguiteci su Instagram E vi vediamo bene Soprattutto perché I prossimi video Saranno una figata Ragazzi Una figata Ma è proprio Da morire Da morire Quindi stay tuned E niente Noi vi mandiamo Un grosso bacio Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao